La deputata di Forza Italia, Nunzia Di Girolamo, è tornata a Isernia in occasione della presentazione delle liste di Gabriele Melolli. Ora bisogna vincere, ha dichiarato la parlamentare durante l'adunanza svoltasi al Grande Hotel Europa. L'obiettivo della coalizione di centrodestra sarebbe quello di vincere, ma vincere per la gente, ha specificato la Di Girolamo, che ha portato alla città del capoluogo Pentro il sostegno del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Ho seguito da vicino le vicende politiche di Isernia, ho assistito al malgoverno degli ultimi anni ad opera del centrosinistra e sono certo che sia giusta la scelta dell'avvocato Gabriele Melolli, già ottimo primo cittadino tra il 2002 e il 2012 della città molisana, quale candidato sindaco di centrodestra, avrebbe dichiarato Silvio Berlusconi all'Agenparl. Durante l'incontro all'Hotel Europa è stato sottolineato che i dieci comuni più indebitati d'Italia sono amministrati dal centrosinistra. Gabriele Melolli si è poi rivolto alla popolazione isernina, esprimendo la propria soddisfazione per la presenza in sala in occasione della presentazione delle squadre. C'è tanto da lavorare non solo per arrivare a Palazzo San Francesco, ha sottolineato Melolli. Quanto al programma, il candidato sindaco intente continuare quanto lasciato interrotto e poi puntare su un modello futuro di sviluppo della città. Molto dipenderà, certo, dalle scelte che farà il Governo centrale in merito all'ipotetica soppressione delle province della Prefettura e della Questura.